In maniera di riparare, attualmente il centro di barrio nord ha un ruolo importante nel barrio di nord e nel momento è che si tratta di un accordo tra MFA Nord e centro di barrio nord a Tumurato Pacana come espresidente nel edificio del centro di barrio di nord e il ballpark. Il centro di barrio nord è il luogo per attività e nel giorno è un'altra casa per emozionare la scuola. Il centro di barrio nord è il ballpark e il nuovo lavoro è inaugurato 21 anni passati e è una attraczione grande. e sta in necessità per un'attenzione perché da brinda e servizio è deportista e è fanatico. La tira è abbastanza duro e con la luce è deficiente e ora è pericoloso. Però se non si può avere aiuto a corto plazzo, però se non si può avere aiuto a corto plazzo. Però se non si può avere un facelift, se non si può avere a corto plazzo. che non si può avere a corto plazzo, ma non si può avere a corto plazzo, ma non si può avere a corto plazzo. ma non si può avere a corto plazzo, ma non si può avere a corto plazzo. E poi ci sono un'attenzione per il giorno, ma non si può avere a corto plazzo. ma non si può avere a corto plazzo, ma non si può avere a corto plazzo, ma non si può avere a corto plazzo. non si può avere a corto plazzo Caclogue 천cunicata, ma non si può avere a corto plazzo con me. è un equilibrio che le scoglie nolli è un'attuale scuola. pototti Agnes, psychiatristoni è un ruolo che lo canto passa, ma non semb الحare a corto plazzo.